Lo studentato diventa da questo punto di vista uno strumento estremamente importante e poi come si diceva il Polo Manzetti con la realizzazione anche della palestra, tutta la ristrutturazione dell'edificio, 20 milioni complessivi su questa importante iniziativa. Si diceva delle risorse che stiamo investendo sulla transizione energetica realizzando la centrale unica di fornitura di energia elettrica, di produzione da sorgenti completamente rinnovabili che servirà come ricordava il Presidente per l'università, per l'ospedale. Quindi come vedete sono pochi progetti molto significativi che creano oltre alle materie specifiche delle quali si occupano, quindi la tutela del diritto allo studio, l'efficientamento energetico, creano sviluppo, producono crescita che poi è quello che fondamentalmente ai territori serve.